Il signore che vedete ha deciso di risolvere il disturbo arrecato da una muta di cani randaggi e soprattutto la sua avversione nei confronti degli animali distribuendo esche avvelenate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Ti ucciderei, ma dopo lenta tortura possibilmente. Quindi alla violenza risponde con la violenza però? No, non importa. Chi fa male agli animali, soprattutto quando non hanno colpa, merita di essere pubblica, veramente. La solita tortura però... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.